La vicinanza mia personale della giunta di tutto il Comune, il Consiglio Comunale e di tutta la città alla famiglia Pasquino, al Presidente del Consiglio Comunale uscente per questa immane tragedia che l'ha colpito con la morte del figlio Nicola nel pomeriggio di ieri. Ci stringiamo tutti attorno a Raimundo che oltre a essere stato un grandissimo Presidente del Consiglio Comunale, un leale alleato politico e diventato nel corso di questi cinque anni anche un mio amico personale. Sono particolarmente rattristato e colpito in questo giorno che è anche un giorno di festa, un giorno per me e per la città, però in questo momento c'è la prevalenza del sentimento di vicinanza a Raimundo Pasquino e alla sua famiglia.